Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Yashraj Sharma muore a un anno e quattro mesi per un tumore. Da quanto si legge il bambino viveva a Prato con i genitori originari dell'India ed il male lo ha ucciso il 27 aprile. Il piccolo aveva soltanto un anno e quattro mesi, e di essi sette li aveva già passati a lottare contro la neoplasia che gli era stata diagnosticata a ottobre al Maier. Suo padre Rajesh ha parlato di lui inconsolabile come di un piccolo leone che ha combattuto con tutte le sue forze. Yashraj lo aveva fatto sottoponendosi a un delicato intervento al cervello a novembre. In un secondo momento il bambino si era sottoposto a un ciclo di chemioterapia. Il signor Rajesh è originario dell'India ma da oltre 20 anni vive a Prato. Nella città toscana l'uomo ci lavora come operaio tessile in una tintoria. L'uomo ha anche una bambina di nove anni e un maschetto di sette, che frequentano la scuola primaria Le Fonti. Con loro vive anche la nonna, distrutta dalla perdita del nipotino. I funerali sono stati celebrati sabato a Chiesa Nuova, alla presenza non solo della comunità indiana di Prato, ma anche dei vicini di casa, dei colleghi di lavoro e dei compagni di scuola dei fratellini di Yashraj.